E buongiorno ragazzuoli, oggi siamo su Supermarket Simulator, gioco che ho iniziato in live. Per me è gioco dell'anno questo, cioè gioco in cui andiamo a gestire un supermercato. E dice, ma che ci trovi di bello in un gioco in cui vai a gestire un supermercato? Eh, provalo, provalo e poi me lo fai sapere. Quindi, nuova partita, gioco iniziato in live, però ho fatto il backup del salvataggio per continuare quella serie in live. Ma qui andiamo ad iniziare un nuovo salvataggio, quindi iniziamo da capo praticamente. Detto in parole povere, spicciole, spicciole, iniziamo una nuova partita. Allora, iniziamo praticamente con un buco, vedete qua? Siamo in un buco per poi espanderci fino a diventare praticamente un centro commerciale, più o meno. Poi iniziamo con poca merce da acquistare, per poi acquistare delle licenze che ci permettono di comprare più prodotti e quindi vendere più prodotti e quindi poter guadagnare ancora di più. Prima cosa da fare è ordinare della merce usando il tuo computer, ovviamente. Quindi, andiamo qui, gestione, no, perché io qua mi confondo, mercato e andiamo a comprare. Partiamo con 50 dollari, quindi io vado a comprare una scatola di ogni cosuccia, forse anche due. No, perché manco ce la facciamo con i soldi. Quindi, che cosa eliminiamo? Perché all'inizio è così, siamo spicciolati come sempre noi. L'olio si vende tantissimo, quindi lo lasciamo. Eventualmente togliamo qualcosa che ci può costare troppo. Niente, per adesso togliamo lo zucchero a velo, perfetto. Siamo ancora a 84, quindi dobbiamo togliere per forza i cereali. Niente, non c'è niente da fare. Totale 48 dollari, rimaniamo con 1,88 dollari e quindi torniamo ad essere spicciolati, ragazzi. Quindi niente, ho merce ordinata. Guardate un po' dove va a finire la merce ordinata. Dove me la scaricano? Per strada, come giusto che sia. Come fanno molti corrieri poi, tra l'altro. Quindi, prendiamo scatola e cominciamo ad organizzare i nostri prodotti. Quindi, spacchettiamo. Allora, l'olio in live io l'ho messo qui. Quindi, per comodità, lo rimetto qui. Ora, andiamo a gettare la scatola di cartone e andiamo a fissare i prezzi. Perché noi lo abbiamo comprato a 1,50 dollari. Il prezzo di mercato è 4,50 dollari, quindi mi vado a mettere 4,50 dollari. Però, attenzione, perché nelle successive giornate questo prezzo potrebbe variare. Il prezzo di mercato, ovviamente, potrebbe salire come potrebbe scendere. Di conseguenza, dobbiamo modificare i prezzi. Altrimenti, se la gente lo trova troppo caro, non se lo compra. Quindi, le penne, le mettiamo qui. Sto utilizzando la stessa posizione di quella utilizzata in live per comodità. Poi, la farina, mi pare di averla messa qui. Più o meno, qui avevo il caffè pure. Vabbè, non mi ricordo. Vabbè, la farina la mettiamo qui. Dopodiché, il pane. E i vetri sono talmente puliti che non li metto. Il pane lo mettiamo accanto, forza. Perfetto. E andiamo a gettare il cartone. Gioco che sta avendo un discreto successo, ragazzi. Apriamo il negozio e sediamoci in cassa. Questa è la nostra cassa. Da qui potremmo gestire il resto da dare in contanti oppure utilizzare direttamente la carta di credito. Ecco la prima signorina. Brava. Compri più roba. Più roba, signorina. Quindi interagisci con la cassa e passiamo le penne. Due pacchi di penne. E devi fare la penne all'arrabbiata. Quindi in questo caso mi ha dato 2 dollari e noi dobbiamo dargli 2 centesimi di resto. Non fate come me che dovevo dargli 80 centesimi di resto e gli ho dato 80 dollari in live. Quindi non fate come me, ragazzi. Abbiate accortezza di dare il giusto resto. Carta di credito. La signorina paga 5,49. Quindi 5,49. Tac. E vado via. Perfetto. E così vi gestite il vostro negozio. Soldini. E diamo 0 di resto. Perfetto. Bravo, buon uomo. Compri il pane che le fa bene la panza. Perfetto. 1,98. 1,98. Perfetto. Poi una volta che finiamo la giornata, il giorno seguente potremo ordinare eventuale merce che ci manca dai magazzini. A proposito di magazzini. Qui c'è un magazzino. Ma all'inizio è bloccato perché voi dovete andare avanti. Quindi più si va avanti più il nostro supermarket diventa enorme. Stai vendendo un prodotto? Giusto. Giusto. Perché mi sono scordato di mettere i prezzi qua. E stavo vendendo prodotti senza guadagnarci niente. Esattamente quello che mi è successo in live. Quindi 3,71. 3,96. Perfetto. Ci siamo. A posto. E niente. Non ci perdiamo ma non ci guadagniamo nemmeno. Quindi passiamo. Adesso mi passa per il prezzo che ho messo. No. Infatti. E no. Perché la signora lo vuole al prezzo che ha visto. Perché non è che è scema quello. 10, 20, 30, 40. 1, 2, 3. A posto. Manda a funghi. Ora però lo prendono a prezzo che io ho messo. Giusto. Quindi quanto passa? 3,71. Perfetto. 3,71. Un pacco di farina. Ma che farina è? Ma da quale mulino proviene sta farina? Dall'Afghanistan d'Europa. L'importante è che noi ci guadagniamo. Salve signorina. Cosa prende oggi? Della farina. Tutti a fare il pane. Oh ma che è? Pasta e pane. La signorina va molto di carboidrati. Senza fissare il suo prezzo. Di nuovo. Che cos'è che non ho fissato il prezzo? Giusto? Le penne. E niente. Faccio schifo io in questo gioco. Non c'è niente da fare. Non è che... Non si può negare l'evidenza. Eccomi qua buoni uomini. Non so perché lagga ogni tanto. Eccomi qua buone donne, buoni uomini. Quello che siete. Perfetto. 5,69. 5,69. Niente. Ci sto più perdendo oggi che altro. Delle penne con tanti. Un centesimo. Ecco a lei. La gente che vuole anche un centesimo di mangi. Di resto. Non di mangi. 8,46. Perfetto. Siamo a 9 clienti. Nel frattempo manca qualcosa. No. Perché i prezzi ci sono tutti. Perfetto. Poi più avanti potremo comprare dei frighi. Dove conservare altre tipologie di merci. Tipo uova. Acqua. Latte. Formaggio. Il formaggio si vende tantissimo. Ah va. Dove cacchio siete andati a finire? Entri buon uomo. Buona donna. Quello che cacchio è. Che compri tutto. Forza. Che è l'1,25. La giornata si conclude alle 9 di sera. È l'1,30. Io manco pranzo. Perché pur di vendere. Come fanno i veri imprenditori di supermarket. Tu non vai nemmeno a mangiare. Per poter vendere qualcosina in più nel tuo supermarket di fiducia. Che è tuo. Poi nel dubbio possiamo anche arredare il nostro supermarket. Cioè posso spostare tutto. Come voglio io. Vedete. E lo arrediamo. Tipo il live. Questo l'avevo messo qui. Pum lo sono spostato di nuovo. Per arrivare un po' meglio al pulsante di accensione. Della luce. Perché poi arrivata a sera dobbiamo accendere anche la luce. A proposito di luce. Arrivano anche le bollette in questo gioco. Quindi quando voi avrete il supermarket più grande. Andrete a pagare più bollette. Quindi più guadagni più devi spendere. Brutto essere. Tu che vivi. Eccomi. Come nella vita vera. Eccomi. Allora che è. 12 e 33. Allora 10. 11. 12. 10. 20. 30. 1. 2. 3. Ah posso. Ne va andare. Men in black. E nel frattempo ci facciamo una passeggiata. C'è l'ultimo pacco di farina. Poi fate attenzione. A fare gli ordini. Cercate di farli tutti in un unico ordine. Il limite è 10 però. Perché ad ogni ordine voi pagate anche le spedizioni. Se voi prendete due prodotti in un ordine. Due in un altro. Avete pagato due volte la spedizione. E quindi c'è da perdere. Cercate di organizzarvi con gli ordini. Perfetto. Carta di credito. 708. Allora quello che dovrebbero raggiungere in questo gioco. È la possibilità di ordinare la merce direttamente guardando il prodotto. Tipo io vado qui. Dovrei ordinare il pane. Bene. Cioè dovrebbe raggiungere qualcosa. Che mi permetta di ordinare il pane direttamente dallo scaffale. Perché per adesso abbiamo poca merce. Va bene così. Ma quando avremo il supermercato con tanti scaffali. E tanta merce. Memorizzarti quello che manca. E poi andare al computer. E fare l'ordine al computer. Diventa un po' stressante. Stressante. Quindi ai programmatori del gioco. Aggiungete la possibilità di ordinare le merci direttamente dagli scaffali. Come è giusto che sia. Poi tra l'altro. Perché nei supermercati. Non lo so se lo sapete. Hanno un dispositivo elettronico. Che permette di scandire i codici a barre. Dei prodotti esposti. Quindi la scansione arriva al pc. Al computer di gestione. Che appunto inoltre gli ordini praticamente. Quindi la stessa cosa dovrebbero fare qui. O quantomeno. Direttamente dagli scaffali. Aggiunge la possibilità di aggiungere i prodotti nel carrello. E poi fare l'ordine. Ecco programmatori. Questo sarebbe una gran cosa. Perché ogni volta. 2.58. Ogni volta. Tornare al computer è un casino. Perché poi ti scordi che cosa. Cosa manca. E ci devi ritornare agli scaffali. Quindi se è fatta una certa. Aspetta ormai facciamo una signorina qua. Soldini. 41. Per due bottiglie di olio. Signora. Che rotto di scatole. 41. Si è fatta una certa. Accendiamo la luce. Attenzione perché l'energia elettrica costa. E poi arriva il bollettone. Mi è rimasta una bottiglia d'olio. E' un pambauletto. E sono le 8. Se viene qualche salve signorina. Regalo un pezzo di pane. E della. E dell'olio. Perfetto. Lo vengo a prendere così. Ho finito i clienti. Ho finito la merce. Il pane signori. Il pane che fa. Prende l'olio senza il pane. No. E l'olio come tu lo mangi. Senza pane. Perfetto. Abbiamo finito la merce. Carta di credito. 8.46. Tac. Perfetto. Non c'è più niente. C'è. Non riesco a trovare. Eh signori. Ho finito la merce. Ve ne potete andare tutti a funghi. Ho finito. Ma che cacchio guarda lei. Non vede che non c'è niente. E se ne vanno. Giusto. Però ho venduto tutto. E questo è vero. Quindi premo enter. Per finire il giorno. E vediamo che cosa è successo. Però ti ho trovato uno. E pazienza. Che dobbiamo fare. E comunque abbiamo avuto un profitto totale. Di 80 dollari. Più si va avanti. Più questo profitto giornaliero. Diventa. Ben consistente. Ed ecco qui. Spese giornaliere. Dobbiamo pagare le bollette. E pure l'affitto. Però non è ancora arrivata. Menomale. Come potete vedere in sviluppo. Eh. Possiamo espandere le zone. Quindi. Espandere 4x4. Nah. Fino ad arrivare alla sezione 23. Sempre 4x4 però. Però. Una volta che è arrivata la sezione 23. Avete praticamente un centro commerciale. Pieno di roba. E pieno di merce. Allora. Quindi. Mi manca tutto. Direi che è arrivato il momento. Di comprare tutto. Praticamente. Un pacco di cereale. Un pacco di panaffetto. Un pacco di farina. Lo zucchero a velo. La pasta. E l'olio. E siamo a 93 dollari. E quindi aggiungiamo un po' di olio. Aggiungiamo un po' di cose. Fino ad arrivare. Alla cifra. 127. Rimaniamo con 2 dollari e 79. Perfetto. Facciamo l'ordine. Andando in arredamento. Invece potremo comprare più casse. Potremo comprare scaffali. Freezer. I frighi. I frighi grandi. I frighi piccoli. Dei punti luce. Niente. Potete espandere sempre di più il vostro supermarket. Nel frattempo la... Guarda là. Guarda... Ma dico. Va bene che me li lasciate in strada. Ma non proprio in strada. Nel vero senso della frase. Metteteli sul marciapiede. Comunque. Ne va della reputazione dei corrieri praticamente. Allora. Farina era qui. Giusto. Farina a 371. L'olio a 450. Quindi. Questo è il pane. Ed era sempre qua. Mettiamo pane. Perfetto. Ok. Posiamo cartone. Oh. È arrivato un nuovo prodotto. Lo zucchero a velo. Ok. Io in live ho messo qui. Perfetto. Mettiamo subito il prezzo. No. Con i cartoni in mano non te lo fa mettere il prezzo. Sta laggando. È incredibile. Allora. Il prezzo. 4,83. Mettiamo puliti puliti. 4,83. Perfetto. Confermo. Poi. Che mi avete portato? I ciocopops. Li mettiamo qui. Tac. Poi. Sempre andando avanti. Si potranno sbloccare diverse marche. Per ogni singolo prodotto. Quindi per adesso. A livello di cereali. 5,98. Abbiamo solo i ciocopops. Ovvero i ciocopops. Poi. Andando avanti. Avremo altre marche di cereali. Quindi potremo fare. Varie sezioni del nostro supermercato. Varie corsie. Con i vari prodotti. Detersivi. Cose varie. Eccetera eccetera. Quindi gioco dell'anno ragazzi. Questo è il gioco dell'anno. Fatemi sapere. Se volete più video. Oltre al fatto che io comunque lo sto già portando in live. Magari potremmo fare una serie da live. E una serie da YouTube. Lasciate tanti like quindi. Mi raccomando condividete il video. Con i vostri amici. Non ve lo scordate. Commentate. Eccetera eccetera. Quindi prodotti sistemati. Avviamo la giornata. E buongiorno. Good morning. Venga venga signorina. Ho dell'olio in sconto. Le può interessare. Venga venga. Venga venga da qua. Qua 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 qua. Entra ciccia. Brava vedi che. Non fare caso all'immondizia. Chi è che ha lasciato l'immondizia qua? Che sporcaccioni. Cosa prende signorina? Io che sto così addosso ai clienti. Oh perfetto. Solo quello? Si è fatto 80 metri. Si può venire a comprare la farina. E che cos'è? Che mi paga? Zero buccia. Perfetto. Va bene così. Avanti il prossimo. Dove siamo dal dottore? Signora. Ho l'olio in sconto. Venga venga. Non mi attraversi però che sono un fantasma. Non so perché laghi. Cioè in live non mi laghi. Che? No. Dove stai andando? Dal supermarket là di fronte? Lei è una traditrice. Signorina. Malefica. Mi ignora. Mi ignora. Oh sta arrivando quella. Salve buon uomo. Ho della pasta in offerta. Le può interessare? Lo zucchero a velo? Per far fare i muffin a sua moglie? Prenda un po' quello che vuole. Perfetto. Ho preso i ciocopops. Della farina. La farina si vende un casino. Ecco qua. Perfetto. Due pacchi di farina. Addirittura. 60 centesimi direi. 1, 2, 3, 4, 6. A posto. Salve signora. Lo zucchero a velo. Vedete? Tutti che vanno a fare i cannoli. Perfetto. Due pacchi di zucchero a velo. Che cacchio ci deve fare signora? Allora zero. No carta di credito. 13,62. Tac. A posto. Se ne può andare. Non c'è più nessuno? Venite facce di capra. Venite. Offro tutto io oggi. Col cavolo. Col cavolo. Venga buon uomo. Venga. Dove va? Al matrimonio. Ma lei lo sposo? Tutti a prendere lo zucchero a velo. Gli ho dovuto tirare la sposa. Olio. Perché come fai a non tirare zucchero a velo e olio agli sposi? Impossibile da non fare. Quindi. 10, 67. 10. 50. 65. 67. Lei che ha preso? Ok. Farine. Come se non ci fossero domani. 16 e 42. Perfetto. Non ce n'è più nessuno? Allora. Cici. Entrate. Nessuno. Lei? Con sta cravatta orribile. Venga. Venga. Venga che le offro un panino. Col cavolo. Che prende? L'olio? La pasta? No. L'olio. L'olio. Vedete. Olio. Comunque la merce si vende un po' tutta. A prescindere da che merce sia. Poi quando sbloccate il formaggio. Il formaggio lo prendono tipo a 3-4 pacchie a volta praticamente. Il formaggio sia un casino. Allora. Zero. Via. La signorina prende la pasta. No. Prendi ciocopops. Poi a un certo punto ho notato. Mi hanno fatto notare anche in live. Che la gente prende delle cose. O quantomeno un certo numero di cose. Però in cassa. Il numero è minore. Quindi non ho ben capito se è possibile che la gente qui ti facciano i furti. Credo di no comunque. Però nel dubbio non si sa mai. Poi il prossimo obiettivo ci dice di comprare una licenza prodotta usando il computer. Che ci costa 200 dollari. Però questa licenza ci sblocca l'acqua, il formaggio, il caffè, le uova, il latte, il tenere e così via. Fino ad arrivare ad avere tantissimi prodotti. Salve. E sto spiegando le cose. E non potete aspettarci. 44 dollari. E che cos'è? 44 e 02 pure. Perché se non gli dai i due centesimi di resto quelle si infatti. Chocopops. Quanto di resto? Zero. Ottimo. Due bottiglie di olio. Carta di credito. 9 dollari. Puliti puliti. E siamo arrivati a 132 dollari. E non c'è più gente. Tra l'altro ci sono molti cloni comunque. Questo è il clone di quello di prima. Eppure è sempre quello di prima che sta tornando. No vedi che è il clone di questo? Quello è entrato. Aspetta, aspetta ciccio. C'è il tuo gemello è appena andato via. Che compra lei? Che vuole? L'olio? No, la pasta? Sì. I chocopops. I chocopops? Niente. Va più della pasta. Poi un pack. Ti sei fatto 80 chilometri per venire qua a comprare i chocopops. Ok. 5,98. Lei che prende signorina? L'olio. L'olio è più caro dell'oro. Come nel video che abbiamo visto. La pasta con i broccoli è eliminato. Ta 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 ta. Ok. Carta di credito. 16,92. Tac. A posto. Lei che prende buon uomo? L'olio? No, la farina. La farina. Oggi la farina va a ruba proprio. Insieme ai chocopops. Carta di credito. No. 0,58. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E attenzione perché la gente si arrabbia se hanno gli dato i centesimi. Accendiamo un po' la luce. Che già si è fatto buio. Si è fatto buio. Olio. Carta di credito. 4,50. Ok. Lei che ha preso? Ecco, ha preso. Zuccherà a velo. Prende un pacco di pasta. Due pacchi di pasta. Vediamo quanti me ne deposita. Due zuccherà a velo. Ok. Ci sono stati casi in cui. Due, tre, quattro, dieci. In cui mi depositavano meno merce rispetto a quella che avevano preso. Quindi non so se è un bug oppure la gente si frega le cose pure. È possibile che la gente si possa fregare le cose in questo gioco. Nel dubbio io salgo sopra la cassa così la calpesto. Non si sa mai. Lascio i miei germi anche in cassa. E facciamo pagare la signora. Ok. Quanto paga? 11,63. E 37 di resto. Attenzione. Non diamogli 37 dollari. 37 centesimi. 37. Eh, perché quelle è facili sbagliare. Olio. 9 dollari. Che poi se voi provate a sbagliare e a debitargli 91 dollari anziché 9. Vi dice che non è fattibile come cosa. Però se voi sbagliate al contrario. Nel senso date più soldi di resto. E lì ve lo fa fare. Quindi fate attenzione. 76 centesimi. 75 e una 6. A posto. Salve. Gioco pops. Ecco a lei. 5,98. Che poi non c'è differenza tra farli pagare con carta di credito e in contanti. Non ci sono commissioni come sulla vita vera. Va bene. Oh. Stavo per terminare ma c'è un altro essere che si è scordato qualcosa. Che prende la pasta. A quest'ora non ti va a mangiare la pasta. Però va benissimo anche a quest'ora. Allora. Due pacchi. Bravo. Contanti. Zero. Perfetto. Giornata direi che è conclusa. I cioc... No salve. I ciocco pops sono andati a ruba proprio. La farina non esiste più. Farina e ciocco pops si vendono che è una bellezza. Vedete? Anche a quest'ora vengono a comprare i ciocco pops da me. È rimasta l'ultima scatola. La farina non esiste più. Quindi al giorno dopo io ordinerei a sto punto ciocco pops, zucchero a velo, del pane, la farina ovviamente. Poi che cosa succede? Il magazzino è bloccato. Ok. Però se voi ordinate più roba del previsto che quindi non vi entra più negli scaffali la potete abbandonare per il supermarket. Non succede niente. Anche roba che andrebbe in frigo non ce la mettete. L'abbandonate qui non dovrebbe scadere. Almeno a me non è successo. Quindi premo enter per terminare il giorno. Arriveranno bollette oggi. Assolutamente sì. Allora la farina è scesa di prezzo ed è salito lo zucchero a velo e i cereali. Quando i prodotti scendono di prezzo conviene comprarli. Ma nel frattempo mi vado a pagare le fatture. E vedete quando il supermarket è piccolo paghiamo 2,72 dollari. 2,72 dollari. 2,72 di luce praticamente. E 20 dollari d'affitto. Più si va avanti più le bollette saranno molto molto salate. Ed ecco qui che la farina è scesa a 63 centesimi. Quindi ne prenderei 3 cartoni addirittura. Vedete ogni volta io mi scordo se manco o no e devo andare a guardare. Pensate cosa succede quando il supermarket diventa enorme. Diventa un po' un casino andare a vedere i prodotti che mancano. Quindi programmatori, sviluppatori date la possibilità di aggiungere i prodotti al carrello direttamente dagli scaffali. Sarebbe una cosa che renderebbe sto gioco ancora più bello. Quindi gioco molto carino, molto interessante. Non per nulla sta avendo il successo che merita. Fatemi sapere quindi se... Intanto salvo. Fatemi sapere quindi nei commenti se volete altri video su questo gioco. Dove appunto cerchiamo di espanderci sempre. Oltre al fatto è comunque che lo sto portando anche in live. Quindi potrete vederlo anche là. Mi raccomando di lasciare tantissimi like. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Attivate la campanella. E per oggi è tutto. A prossimo video.